buongiorno buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale di Riden Riders ci troviamo a Bobbio, sono le 9 del mattino e oggi andremo a percorrere una traccia che da qui ci porterà fino al mare a fare il bagno con noi abbiamo nell'ordine il buon Ricky con il 990, Davide tenere 700, il buon Richard con l'XD ciao Richard, Edo con la IMA, Ale con il Transalp pimpato da cross, poi Phil tenere 700, Claudio tenere 700 versione camouflage Marco con l'XR400 e Dario con il nuovo acquisto, la bestia, il KTM 690 infine il mio bel KLE, abbiamo fatto colazione e adesso ci vestiamo e imbocchiamo la traccia, ciao allora, imbocchiamo la traccia mi fai un piacere? te lo metti nella taschina dello zaino per tenere, ho paura di perdere eh sì, questo è davanti ciao Bomber! siiii che è? ma che ci hai fermato? guarda, vado prova a scendere io non risalgo più con le mie donne al massimo ci tiriamo ti dà come ci hai fatto? tu hai fatto il tappello pichella è stato il tappello il tappello il tappello no, ci vuole un cazzo a tirarla su, siamo a 7.000 quante probabilità che sbagliamo strada adesso? a risalire, e dici, e magari troviamo quella giusta sta già riprendendo, riprendimi tutti quando salvo adesso arrivano tutti vai vai vai, non fermarti vai 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 grande alè, alè penso che sia ultimo grande volevo fare il video di tutta la sgombata, stavo andando nel posto allora vi date cosa avanti? eh sì, è vero, mi ha sconcentrato dove vai? che pazzo psicopatico madonna ana ooo Porca questo è bello non muovere non muovere no ho perso l'equilibrio come un cretino sai che stavo volando di faccia tieni è in folle si ferma un attimo è in folle ok ce l'ho ce l'ho io la sotto è in culo eh qua sotto dobbiamo farlo una volta fai il video fai il video direi che cadiamo sui sassi taglieri vai chi è il primo? io da che parte scendi? di qua? vai ricky qui 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 come qui 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 Grazie per la visione!